ciao sono luca rovetta dell'azienda rovetta e da dieci anni siamo presenti aristogolf e siamo contenti di esserci fin dall'inizio quest'anno uno dei valori di aristogolf che sposiamo è il valore della famiglia perché ormai in questi dieci anni è diventata una grande famiglia dove iniziamo conoscerci tutti tutti gli sponsor quest'anno è entrato in aristogolf un marchio importantissimo che è la gibblers è uno dei marchi principali di abbigliamento per la ristorazione che abbiamo iniziato a distribuire la quantità di prodotti offerti adesso dalla rovetta si è alzato tantissimo il livello è stato tantissimo il marchio gibbloss è uno dei marchi più riconosciuti ormai quasi a livello europeo questa cosa con aristogolf ci piace molto perché speriamo che possa aiutarci a far conoscere di più un prodotto italiano come questo marchio grazie